sono le 7 benvenuti e bentrovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è 7 giugno 2022 il sole è sorto alle 5.25 tramonterà alle 20.48 ancora le giornate continuano ad allungarsi fino al giorno quando comincia l'estate ovvero il 21 giugno prossimo vediamo chi si festeggia ora nel giorno di oggi appunto secondo il libro dei santi e troviamo un santo particolare adesso vi dico perché si tratta di san roberto di newminster un santo inglese che visse nel dodicesimo secolo ma fu veramente santo ebbene nei registri della chiesa non figura un processo di canonizzazione comunque san roberto è uno di quei santi che viene festeggiato ugualmente ce ne sono anche altri di cui non si hanno reali notizie però la tradizione in questo caso prevale e quindi è un santo che viene posto ugualmente negli altari un po' come è accaduto al beato antonio da fano che in realtà non sembra sia stato beato il cui corpo era costudito nella chiesa di santa maria nuova ritrovato proprio l'anno scorso durante i lavori di sistemazione del convento una mummia ritrovata intatta ancora molte parti del corpo erano tranquilli erano proprio intatte ebbene ora riposa nel convento di valle remita nei pressi di fabriano ma attende di ritornare appunto nella sua città beato antonio da fano o antonio da fano era comunque il personaggio di riguardo che visse alla corte del re di aragona re di spagna e anche la corte papale come un personaggio alto locato però lasciamo stare il beato antonio e oggi festeggiamo roberto di newminster e veniamo anche le previsioni del tempo vediamo come il tempo si sta così sta cambiando il caldo il sole cede lo spazio alle nuvole del pomeriggio infatti si prevede una spiccata instabilità con rovesci e locali temporali a partire dal nord delle marche in estensione poi a tutti i settori durante la serata i venti ispireranno sulle coste da nord all'interno invece dalla direzione di ovest le temperature sono in calo non saliranno oltre i 26 gradi vediamo le notizie a partire dal corriere adriatico oggi sulla pagina di fano vediamo come si parla del problema della pesca pescherecci in mare per due giorni uscita esplorativa la protesta continua dopo una settimana di sciopero i pescatori sono tornati in mare questa notte resteranno in attività oggi e domani e poi resteranno sempre all'ancora insomma la protesta per quanto riguarda il caro del gasolio ma poi ci sono anche altre problematiche da risolvere continua e in questo caso perché veramente il settore della pesca è alla frutta non se la fa più le imprese non riescono a realizzare nemmeno un piccolo guadagno per pagare gli equipaggi l'incognita sulla redditività per il caro gasolio ne parla Tonino Giardini per quanto riguarda in rappresentanza diciamo del gruppo pescafano non ci hanno dato alcun ammortizzatore sociale mentre per esempio il settore dell'agricoltura viene sostenuto in maniera decisa insomma in maniera fattibile veniamo agli altri problemi vediamo la cronaca coppia di motociclisti tamponata cade all'incrocio sono due coniugi che sono stati portati al pronto soccorso ieri mattina sono caduti sull'asfalto moglie e marito che stavano viaggiando su una motocicletta l'incidente si è verificato intorno alle 10 alla rotatoria tra via Flaminia e via Moriconi a Fano in zona Forcolo ma poi c'è stato anche un altro incidente un altro incidente che ha coinvolto un ciclista fanese di 53 anni che è caduto a terra mentre stava per immettersi da via della Paleotta in via Giustizia di fronte al cimitero centrale è accaduto domenica alle 18.30 questo incidente le altre notizie riguardano una notizia di sport sul Corriere Adriatico perché ieri è stata presentata nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale una iniziativa della Virtus un torneo che animerà il fine settimana con nove squadre che si contenderanno la vittoria finale sono le final eight di Volley Under 20 e Fano lancia i futuri campioni una particolare attenzione al settore giovanile da giovedì a sabato le partite tra i Palace Allende e di Lucrezia e c'è anche la Virtus che competerà con le altre squadre quelle venute da fuori il suo scudetto comunque Fano l'ha già vinto dice il Corriere non solo per aver ottenuto l'ospitalità della final eight di Junior League di Volley da giovedì a sabato ma anche per aver spuntato un posto tra le otto squadre di Under 20 che si contenderanno il titolo ebbene una bella iniziativa di carattere sportivo che contraddistingue anche l'avvento del nuovo presidente della Virtus si tratta di Emilio Cenerilli che ieri appunto ha presenziato a questa conferenza stampa insieme al sindaco e gli altri dirigenti sportivi della squadra e poi l'Adriatica torna in C bravura e carattere un'altra iniziativa di sport l'allenatore esalta le ragazze ringrazia i collaboratori della squadra di pallavolo e Fano si distingue sempre sia per quanto riguarda il volley maschile che per quanto riguarda il volley femminile che molto tempo fa aveva raggiunto proprio il vertice dei campionati italiani e prima di affrontare il testa-destra decisivo era stato cognato uno slogan a volte succede e veramente è successo un bel traguardo raggiunto dal volley anche femminile ed ora parliamo di cronaca vediamo una iniziativa un'azione della Guardia di Finanza che ha sorpreso un imprenditore che non aveva pagato l'IVA ebbene aveva evaso l'IVA sequestrati appartamento e conto correnti una misura preventiva della Guardia di Finanza nei confronti di un imprenditore della moda residente a Marotta confiscati quasi 400 mila euro tra immobili denaro depositato nei conti correnti si tratta di un giovane imprenditore della moda aveva avviato una fiorente attività nell'entroterra fanese che ora risulta cessata la ditta era fallita comunque l'imprenditore è stato accusato di non aver pagato di avere evaso l'IVA l'imposta sul valore aggiunto veniamo alle altre pagine vediamo che su a Fossombrone si parla della Banca di Credito Cooperativo del Metauro che si consolida un valore aggiunto per il territorio grazie appunto alla vocazione delle banche di credito cooperativo di radicarsi nel territorio di competenza in questo caso nel bilancio della Banca del Metauro c'è stato un utile di 2,1 milioni di euro quasi la metà della raccolta è credito locale poi vediamo anche come gli investimenti sul territorio sono importanti sono appunto una delle peculiarità di questo movimento bancario e in questa pagina però si parla anche di un'altra notizia che riguarda Fano si tratta del Festival di Centrale Fotografia che per tre giorni in questa settimana a partire da venerdì animerà la Rocca Malatestiana sono 50 gli autori coinvolti in questa festa diciamo così una festa fatta di incontri di mostre di presentazioni di libri di interlocuzioni tra gli autori che è giunta alla tredicesima edizione quindi si è consolidata sempre di più e comincia a essere conosciuta anche a livello nazionale da venerdì a domenica alla Rocca mostra e installazioni e qui vediamo i due organizzatori nella fotografia che sono Marcello Sparaventi e il direttore artistico Luca Panaro a San Lorenzo in Campo la scuola laurentina brilla al concorso per i musicisti sono gli allievi delle quarte classi della media che si affermano al Zanuccoli con cinque premi due primi posti altrettanti secondi e un terzo questo è lo straordinario successo ottenuto dalla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale proprio alla diciannovesima edizione del concorso internazionale giovani musicisti Zanuccoli che si è tenuto a Sogliano sul Rubicone in provincia di Cesena una bella iniziativa in cui brillano i giovani e una brutta iniziativa in cui i giovani ovviamente non brillano sono i vandali i vandali che si scatenano nel sottopasso ferroviario di Marotta sono stati danneggiati i collegamenti elettrici e imbrattati le pareti vedete qui un collegamento elettrico che è stato completamente divelto e qua il muro è stato sporcato da una scritta che proprio non ha senso Marotta capitale insomma Marotta può essere tutto però insomma è una bella località turistica e questo deve essere evidenziato a Senigallia il Corriere Adriatico parla degli atti di vandalismo che si sono verificati nei giorni scorsi quando un gruppo di ragazzi ha gettato sulle misa una bicicletta poi erano dei cestini per la spesa avevano fatto un po' un repolistis nei supermercati della città e poi avevano gettato così tanto per passare la serata e vincere la noia questi oggetti nel fiume e comunque ci sono delle difficoltà per l'avvio della vigilanza privata negli stabilimenti un bagno pubblico è stato danneggiato anche a Cesano ed è un problema questo con il quale si confrontano sia le forze dell'ordine che degli amministratori vediamo anche un'altra notizia di sport perché ieri il presidente dell'Alma doveva un po' prefigurare quale sarebbe stato il futuro della società Granata Russo continua ma chiede aiuto continua a tenere le redini della società ma chiede un sostegno ovviamente da solo è difficile che gliela possa fare il patron del Fano conferma il proprio impegno rivendica gli sforzi fatti e parla anche del futuro della squadra la situazione è migliore afferma rispetto a un anno fa cercherò di fare il massimo lui si impegna e ci dovrebbero impegnare anche un pochino di più i giocatori ma in questo caso ci sono dei drastici cambiamenti infatti andranno rinnovati la panchina i quadri tecnici e soprattutto la panchina per quanto riguarda Mosconi e Maggi mi fa piacere che ci siano giocatori che hanno espresso il desiderio di restare ha dichiarato il presidente vediamo ora la pagina pesarese dove si parla si parla della stagione turistica che è sempre in bilico tra la movida e la necessità anzi l'esigenza di trascorrere le vacanze in un clima di serenità di tranquillità c'è chi vuole dormire chi vuole divertirsi in parole povere per la stagione partenza da ricordare ma la movida va tenuta sotto controllo i bagnini al momento sono concordi con gli albergatori cerchiamo di trovare un equilibrio insomma di non andare a confluire negli eccessi per quanto riguarda il divertimento ma nemmeno essere troppo esigenti si tratta di una località turistica quindi occorre fare vacanza per quanto riguarda chi vuole dormire chi vuole riposare cardinali della CNA ci giochiamo lavoro e immagine ricordiamo che turismo e soprattutto economia sia immagine divertimento e vacanze eccetera ma anche economia ed è lavoro e questo è importante non facciamoci la guerra siamo pronti al confronto ribadiscono i gestori dei chioschi di Ponente disponibili ad incontrare gli albergatori e trovare un equilibrio per quanto riguarda la movida fracassona via Rigoni il futuro polo dell'infanzia cerca un progettista l'amministrazione ha riaperto i termini del bando la scadenza è a metà giugno da Soria a Santa Maria delle Fabrecie si rinnova la mappa dell'edilizia scolastica e vediamo come l'edilizia scolastica è un problema importante per quanto riguarda il capoluogo per via anche delle domande che in esubero come per esempio accade negli asili nido sono in esubero rispetto alla disponibilità appunto delle aule e dei locali e l'Erosini Center si riprende lo spazio del Lab Alex Risto dal primo luglio niente più punto vaccinale nell'area vasta 1 la torraccia il direttore Magnoni il direttore dell'area vasta dice stiamo cercando una nuova sede restiamo comunque in città per offrire con comodità un servizio a tutti coloro che richiedono le vaccinazioni ricordiamo che il virus è sempre in agguato anche se è un po' addormentato durante l'estate ma che è sempre pronto a ghermire e ogni tanto qualche decesso anche nel nostro territorio si verifica ieri è stata una giornata importante per l'arma dei carabinieri il comandante Cirtoli ha festeggiato la ricorrenza dei 200 anni della fondazione dell'arma il bilancio 2.000 denunce e 160 arresti il comandante provinciale colonnello Gianluigi Cirtoli lo vediamo qui in questa fotografia ebbene Pesaro ha detto è una provincia in cui non succede nulla di grave dove i reati più comuni sono quelli contro il patrimonio e soprattutto in quest'ultima fase quelli legati al fenomeno delle baby gang noi stessi l'abbiamo riportato spesso per quanto riguarda quello che evidenziano i giornali nella nostra rassegna stampa e anche oggi abbiamo visto come le baby gang sono sempre nell'onda sono sempre al ribalta arresti importanti in collaborazione con la stazione anticrimine sono stati fatti soltanto per quanto riguarda l'omicidio del Natale 2018 un accenno è stato fatto anche alle infiltrazioni mafiose dopo la sospensione di sei attività imprenditoriali in provincia l'attività di controllo è costante ha detto il comandante non ci sono reati spia come incendi estorsioni usura che sono proprio i settori con cui la mafia con cui la grande criminalità finanzia le proprie imprese ma non abbasseremo la guardia ha detto il comandante una diffusione capillare dell'arma grazie al reparto operativo di tre compagnie 34 stazioni 11 stazioni di carabinieri forestali vigila nel nostro territorio e questa è veramente una sicurezza i pendolari delle truffe ai pensionati scoperti per la mascherina non messa erano ai tempi duri del lockdown e questi tre sono napoletani sono stati fermati perché viaggiavano senza auto e dopo un controllo sono finiti sotto processo perché sono finiti sotto processo perché avevano tentato di truffare una coppia di anziani con la solita metodologia suo figlio non ha pagato il bollo lo abbiamo arrestato e ci vogliono 5.000 euro per liberarlo almeno fino al processo e beh lì per lì il marito ha tentennato la moglie ha capito che c'era qualcosa che non andava ma i particolari che avevano evidenziato appunto i truffatori alla fine stavano convincendo gli anziani i genitori del ragazzo e poi il lampo di genio telefoniamo a nostro figlio vediamo se è vero che è in prigione hanno telefonato e dice no sono tranquillamente al mio posto di lavoro è qui dunque ricorso alle forze dell'ordine che hanno teso una trappola ai tre truffatori e li hanno arrestati e sono finiti sotto processo ebbene attenzione dunque perché la fantasia dei truffatori è sempre molto molto alta molto molto varia e molto abile e ieri c'è stata anche una bella notizia che è stata diramata stata notificata dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli per un investimento di 100 milioni di euro nella nostra provincia per quanto riguarda la viabilità sono 44 gli interventi che verranno realizzati nelle diverse strade e sono stati appunto questi notificati durante una riunione che si è svolta in regione e che hanno partecipato le associazioni di categoria insieme alla Camera di Commercio alla Confabi quindi c'erano anche le associazioni sindacali e con i sindaci dei comuni di Montefelcino Fossombrone Colli al Metauro Cartoceto e Fano dunque ulteriori risorse al territorio di carattere infrastrutturale non cambia il pannolone e il giudice le dà ragione si tratta di una bidella che ha impugnato l'ordine di servizio che le è stato notificato dalla dirigente con il compito di cambiare il pannolone a un bambino disabile questa bidella aveva delle difficoltà motorie aveva un male al ginocchio un male certificato una patologia documentata e quindi è ricorsa al giudice perché gli si erano arrivati addirittura ad ordini di servizio lei si era sempre rifiutata non gliela faceva acchinarsi per eseguire questo compito e il giudice gli ha dato ragione e la scuola è stata condannata appunto quindi ha avuto una risposta positiva la bidella a Urbino il duca Federico è sempre il personaggio di riguardo compie 600 anni proprio oggi è nato infatti il 7 giugno del 1422 il duca Federico di Urbino nato a Gubbio Gubbio faceva parte quella volta dei possedimenti dei Montefeltro e quindi Urbino è in festa sono tante tante iniziative oggi ci sarà addirittura un annullo speciale delle poste per ricordare questo evento poi ci saranno delle installazioni e la riproduzione della pala di Montefeltro che viene costudita all'Accademia di Brera a Milano è uno dei quadri più belli di Piero della Francesca che ritrae la Madonna con i quattro Santi quattro angeli alle spalle e il duca Federico con la sua armatura inginocchiato di fronte ad essa è un quadro che ha molti significati ci sono degli artisti come per esempio Guido Ogolini che ne hanno veramente sondato tutti i significati che non appaiono a una prima occhiata ed è veramente un bellissimo quadro e chissà che non ritorni veramente nella sua sede naturale che è quella del Masoleo di Duchi San Bernardino ad Urbino a Brera dove è stato confiscato dall'esercito napoleonico mi sembra insomma una così una posizione non molto appropriata e a questo punto a questo punto abbiamo esaurito l'esame del Corriere Adriatico diamo un'occhiata quindi al resto del Carlino dove sale alla ribalta la chiesa di San Pietro in Valle i lavori sono al palo San Pietro in Valle non vede ancora la luce l'Università ha terminato l'intervento preliminare e attende l'incarico del Comune per completare le indagini si tratta del Politecnico di Ancona che riceve dal Comune l'incarico di capire quali sono le vere cause della risalita della umidità che costituisce il grande problema della conservazione delle opere d'arte contenute in questo scrigno meraviglioso di stile barocco della chiesa di San Pietro in Valle uno dei tempi più belli delle Marche purtroppo chiuso e vediamo anche spesso la delusione dei turisti che si recono con le guide in mano davanti alla porta di questa chiesa e la trovano perennemente chiusa ebbene il Politecnico deve ricevere l'incarico di capire qual è la vera causa per poi correre ai ripari la partita del Mancini non è ancora finita secondo i Cinque Stelle e tutta la gradinata non è ancora agibile e il cantiere è fermo da mesi bisogna approfittare della pausa estiva dicono appunto dice il gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle per adeguare il Mancini alle nuove esigenze un articolo di Spalla ci riferisce del Festival Centrale Fotografia che da venerdì animerà la Rocca Malatestiana vediamo una installazione fotografica che farà parte della mostra delle mostre che verranno allestite nell'occasione una intervista a Renato Claudio Minardi che sollecita ancora una volta l'amministrazione comunale a procedere per la variante di Gimarra l'ultimazione degli interquartieri che dovrebbe collegare Via della Trave alla statale Adriatica il fautore dell'accordo dei 20 milioni avverte se si perdono i soldi sarà difficile per la maggioranza restare insieme dove andrà il partito democratico si allierà con fratelli d'Italia sarà molto improbabile comunque una rivoluzione sarà probabile secondo Minardi che è un po' il deus ex machina per quanto riguarda la corrente di maggioranza del partito democratico l'avvertimento è chiaro se i 20 milioni destinati all'interquartieri andassero persi sarebbe difficile per questa maggioranza continuare a lavorare di comune accordo ha dichiarato l'esponente politico e qui vediamo invece un articolo che riguarda Don Achille tutti conoscono Don Achille 22 anni senza di lui si sentono e verrà celebrata una messa per ricordarlo una messa alle 9.30 di domenica prossima nel santuario di San Giovanni Bosco all'istituto Don Gentili che lo ha visto crescere da bambino e dove riposa Don Achille nella cripta insieme ad altri noti preti fanesi come lo stesso Don Gentili verso le elezioni per quanto riguarda invece terre roveresche domenica prossima sfida pubblico per i duellanti qui vediamo i due antagonisti i due contendenti Sauro Marcucci e Antonio Sebastianelli il sindaco uscente da un lato Sauro Marcucci dall'altro Antonio Sebastianelli si fronteggeranno domani sera al centro sportivo Pieve Canneti un confronto vis-à-vis in vista dell'appuntamento con le urne di domenica si vota infatti dalle 7 alle 23 chi vincerà poi governerà terre roveresche fino alla primavera del 2027 l'incontro è previsto domani con inizio al 21 nella pista polivalente del centro sportivo Pieve Canneti un confronto pubblico tra le due compagini a Urbino oggi nasceva il Duca Federico a eventi e mostre per i 600 anni del mecenate Urbinate il Comitato Nazionale ha lavorato per ripercorrerne le geste vediamo anche le pagine pesaresi dove vediamo l'agonia questo dramma questo veramente questa vicenda drammatica che si consuma da tanto tanto tempo Fabio l'ultimo sonno per non soffrire più ignorato da Stato e Asu scelgo la sedazione si tratta di Fabio Ridolfi 46 anni di Fermignano stanco di patire stanco di vivere sarà addormentato fino alla fine anche se questo prolunga lo strazio di chi mi vuole bene ha dichiarato e siamo in conclusione voglio solo riferirvi di una vicenda che si è verificata ieri al pronto soccorso di Pesaro ebbene un'affluenza eccezionale in 60 hanno chiesto prestazioni sono codici verdi codici bianchi insomma comunque codici che hanno impegnato moltissimo il personale in servizio che è ridotto rispetto ai tempi passati ebbene a questo punto chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle 7 e per le notizie del giorno alle 20 e 30 di questa sera con occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.